Siamo con Elena Perinelli, schiacciatrice di Feneracchieri. Questa sera, dopo una battaglia nei primi 3-7 al quarto, avete ceduto e avete perso la partita. Un tuo commento su questa partita, su questo sconfitto? Sì, sono d'accordo con te. Abbiamo giocato i primi 3-7 abbastanza bene. Peccato per il terzo perché comunque eravamo matti e abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto degli errori di anche scopanali in finale e poi il quarto abbiamo mollato, non l'abbiamo più caldo. Sì, secondo te la chiave di svolta di questa partita è stata la vittoria, forse ai vantaggi del terzo set da parte di Brescia, dopo che era stato anche in vantaggio sempre per 3-4 punti? Sì, penso che comunque rimontare il punteggio importante faccio sempre bene perché comunque i primi 3-8 probabilmente non si è spasso, però è un peccato perché comunque sono stati tutti guanziari a passare in Italia, a parte del suo scopo, ma non è un po' l'altro. Beh, io ti ringrazio, adesso avete una settimana di allenamenti ovviamente, non dovete mollare, siete sempre lì e in bocca al lupo per il presiero. Grazie, grazie mille. Ciao.